Stati mai ai Trulli, in Puglia? Grazie a tutti Grazie a tutti E da adesso in poi inizia il vero e proprio spettacolo Grazie a tutti Grazie a tutti Non cercate di andare sempre solo all'estero Perché nella nostra terra abbiamo talenti, colori e sapori Quindi giriamo l'aria e impariamo a produccerla Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti A questo punto non credo che non sono riuscito a trasmettervi un qualcosa di veramente speciale Un qualcosa di veramente non solo pittoresco ma di veramente fiabbesco Andiamo avanti con il tour Ebbene ragazzi, io spero di aver fatto cosa gradita a portare anche questo tipo di contenuto qui sul mio canale Mi dispiace per me, mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace per l'audio pessimo, mi dispiace per l'audio pessimo, purtroppo non ho con me i miei rod, li ho lasciati con l'altro resto dell'attrezzatura nella mia macchina Quindi ragazzi questo video termina qui, quindi ragazzi questo video termina qui, le solite raccomandazioni che sono quelle di iscriverti al canale Se ancora non l'hai fatto ricorda di attivare la campanellina per sapere quando porterò un nuovo video qui sul canale Ci vediamo alla prossima, grazie per essere stato con me anche in questo video Oh, ti raccomando il pollice, ciao! Grazie a tutti! Quindi adesso è arrivata l'ora delle pappe Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.